E cominciamo. Quindi buonasera a tutti, benvenuti a questa nostra terza sessione del secondo ciclo di webinar Dialogues of Art, History and Law. Questa sessione sarà una sessione particolarmente interessante perché passeremo dalla storia del diritto alla filologia e alla iconografia delle illustrazioni riguardanti la giustizia e la giurisprudenza. E quindi comincerei subito presentando il professor Massimo Miglietta che insegna storia del diritto romano all'Università di Trento, che è un insegne specialista della materia e che oggi ci illustrerà quali potrebbe essere stato il disegno sotteso all'organizzazione del corpus Giustinianeo. Quindi io senza ulteriori indugi lascerei la parola al professor Miglietta ringraziandolo ancora per la sua partecipazione. Prego. Grazie a lei cara collega, grazie a tutti voi per la gentilezza di volermi ascoltare. Io intanto condivido immediatamente lo schermo come avevamo detto. Ho pensato che in coerenza col tema generale delle iniziative in particolare di questa sessione fosse appunto in qualche misura opportuno concentrarsi sul disegno ideale. Io non posso presentare per il diritto romano un disegno concreto del corpus Iuris per la ragione che non si usavano ancora a miniare. Noi abbiamo la littera florentina, però non ha miniature. Ha scrittura, ha qualche glossa. Vabbè poi qui potremmo soffermarci dei mesi sul commento del testo, però l'idea che mi sembrava utile approfondire fosse quella di cercare di intracciare questo disegno ideale. E così mi è anche venuto in mente di collegarlo allo stesso titolo generale delle iniziative, questo ius illuminatum, che è bellissimo nel senso del concetto di un diritto che viene illustrato, illuminato dalle raffigurazioni, ma anche un diritto che dovrebbe essere illuminato rispetto a un'epoca in cui, e credo che qui i giuristi siano d'accordo con me, di illuminazione sul nostro legislatore ce ne sia abbastanza poca. Ci sia cioè una forma abbastanza rapsodica, se non addirittura random, di normazione, di legislazione. È quasi sempre una legislazione di emergenza, capita un problema e si cerca di correre ai ripari. C'è un sistema che più o meno presenta qualche problema, come ogni cosa umana, e si escogita una riforma spesso più sgangherata delle precedenti. Io così sono abituato a dire ai miei studenti, siccome siamo a tre, quando siamo a trenta ovviamente, c'è questa libido di riforme e contro riforme del sistema giuridico. Quindi l'idea di individuare un disegno nella storia del diritto, io credo che sia utile, potrebbe essere utile anche indicare una strada illuminata a chi oggi in qualche misura deve provvedere alla regolamentazione dei nostri rapporti, a cercare di fare in modo che attraverso quella regolamentazione si evitino conflitti tra i consociati e trovare un modo ragionevole, efficiente, ma soprattutto efficace, di risoluzione laddove questi conflitti vengano effettivamente a crearsi. E quindi ho scelto la celeberrima parlata del nostro sommandante laddove, ricordando Giustiniano, appunto afferma, gli mette in bocca al grande imperatore del VI secolo, per volere del primo amor che io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Questo primo amor che io sento è stato interpretato in molti modi. Un primo amore, tra l'altro, che sappiamo essere stato un amore di teologia. Giustiniano aveva accarezzato l'idea del monachesimo, se non fosse poi che è divenuto principe ereditario, nipote dell'imperatore Giustino e quindi necessitato a succedervi, quindi dovendo abbandonare l'idea probabilmente del patriarcato di Costantinopoli. Però, certo, in cambio, non di un mestiere, di una professione di minore quantità e anche qualità. Ma questo amore può essere interpretato anche da noi giuristi, da noi studiosi del diritto romano, in primo luogo come amore appunto di quell'immenso patrimonio che la Roma antica aveva lasciato in eredità sulla base di quello che io amo definire il DNA giuridico insieme a quello militare. non per niente ancora Giustiniano tratterà di arma e iura, cioè di diritto e di esercito, di diritto e di armi, come i due strumenti di esercizio dell'imperio. Dando vita, come è noto, appunto alla creazione, alla redazione di quello che nel Medioevo verrà definito il corpus iuris civilis. Traendo il troppo il vano, qui è una interpretazione ovviamente non solo dantesca, è un'interpretazione che ha una lunga tradizione, secondo cui Giustiniano avrebbe appunto raccolto, ordinato e creato un vero e proprio ordinamento giuridico attraverso la grande compilazione. E quindi, come sottolineo in questo brevissimo abstract, l'essenzialità di un disegno ideale. In qualche modo viene raffigurato questo, la volontà di presentare un quid che consenta, sulla base della tradizione giuridica di molti secoli, noi abbiamo testi della giurisprudenza del primo e del secondo secolo avanti Cristo, fino alle costituzioni dello stesso Giustiniano, passando ovviamente senza soluzione di continuità all'interno della storia, la raccolta di quello che è stato ritenuto il meglio, delle legge, cioè delle costituzioni imperiali, e dei jura, cioè della produzione della scienza iuris, della produzione dei giuristi. Quindi il fons, la fonte del diritto, sicuramente più rilevante anche da un punto di vista costituzionale del mondo romano stesso, ma con uno scopo preciso, cioè creare un sistema giuridico che fosse valido per il VI secolo dopo Cristo e per i secoli a venire. Giustiniano ha indubbiamente questa aspirazione, cioè che la sua non sia una semplice opera culturale, una semplice opera lodevole dal punto di vista della tracciabilità del diritto, ma di creare un vero e proprio nuovo ordinamento. E tant'è vero che tradizionalmente, ma anche sostanzialmente, si fa e si può far cominciare dallo stesso Giustiniano, il passaggio daglius romanum aglius greco romanum, cioè il diritto che in altri termini viene chiamato bizantino. Perché questo? Semplicemente perché il corpus iuris, destinato agli avvocati, destinato ai giudici, destinato ai funzionari, destinato agli studenti delle scuole di diritto di allora, non ancora avere università, ma scuole di diritto, di Berito, cioè l'attuale Beirut, Costantinopoli, Alessandria, Roma, addirittura ancora considerata tale, si vedono proporre un monumentale testo normativo scritto in una lingua che non è la loro lingua. Sempre ai miei studenti sono abituato a dire, immaginate se il nostro legislatore di colpo decidesse che dal primo gennaio del 2024 in Italia, invece del codice civile del 1942, si adotta il VGB tedesco o la VGB austriaco. Beh, a Trento e a Bolzano ancora mi capiscono, ma vorrei vedere un povero giudice del centro Italia o di qualunque altra regione, anche del Piemonte, potrebbe avere qualche leggero problema in più nell'utilizzare. E questo è ciò che avvenne, un testo quasi completamente scritto in latino per persone greco-loquenti. Ecco perché poi ci sarà tutto, ci sarà il fiorire di traduzioni e non certo pedisseque come avrebbe voluto Giustiniano, ma tradizioni che sono veramente delle interpretazioni. Faccio solo un esempio, la stessa parafrasi di Teofilo, che dovrebbe essere la traduzione in greco delle istituzioni, cioè del libro di testo per le scuole di diritto, redatta molto probabilmente da uno dei commissari, dei compilatori giustinianei, addirittura non solo non è una catapoda, cioè una traduzione pedissequa, ma è tre volte tanto la larga, ma questo è dovuto anche a ragioni linguistiche sulle quali non è il caso di insistere, ma dove Teofilo evidentemente, laddove non era d'accordo con lo stesso imperatore, dà regole diverse da quelle che c'erano nell'originale latino. Però per cercare di tracciare appunto la fisionomia di questo disegno e la mano del suo artista, cioè di Giustiniano, del suo ideatore, dobbiamo considerare un dato. Il Corpus Iuris Civilis è composto da tre opere, in realtà tre barra quattro opere. Abbiamo il codice, o meglio i codici, perché in realtà ce ne fu uno del 528-529, un secondo del 534, il digesto emanato nel 533 e le istituzioni, sempre nel novembre del 533. Come ho accennato prima, il codice raccoglie le leges, cioè le costituzioni imperiali, le decisioni degli imperatori, fino a Giustiniano. Il digesto in 50 libri raccoglie invece quello che è ritenuto il meglio della scienza giuridica e quindi della produzione di più di cento giuristi della Roma antica, dall'epoca repubblicana all'epoca post-classica. Le istituzioni che, ricalcando le famosissime istituzioni di Gaio in quattro libri, presentano sinteticamente agli studenti il diritto che riguarda le persone, il diritto che riguarda le cose e il diritto che riguarda il processo. E poi un secondo codice che, secondo la formulazione giustinianea, avrebbe dovuto costituire, permettetemi il termine, una ristampa, nel senso una riscrittura del primo codice. Ma noi sappiamo benissimo che non è così. Giustiniano ordina a un certo momento di requisire tutte le coppie del codice del 528, di distruggerle e di produrre un nuovo codice che sarebbe una ripetita traelezio, cioè, se vogliamo, una riscrittura. In realtà un frammento del primo codice, dell'indice delle sentenze del primo codice, ci dimostra che non era così, intanto è vero che c'erano costituzioni diverse, ad esempio la famosa legge delle citazioni. Ma questo ci fa capire qualcosa di più del disegno. I dodici libri del codice, i cinquanta libri del digesto, i quattro libri delle istituzioni imperiali, le quaranta finestre della cupola della basilica di Santa Sofia, sciaguratamente tornata ad essere una moschea da poco tempo, la sepoltura degli imperatori bizantini, dove il luogo di sepoltura è quella del tredicesimo apostolo, una costituzione del Corpus Iuris, in particolare Deo Autore, fa capire che cosa? Che quell'antico amore teologico non ha mai abbandonato Giustiniano. Quel Deo Autore non è solo l'autore del Corpus Iuris, ma è l'ispiratore. E poiché il primo codice, come prima opera, probabilmente aveva in sé anche delle pecche o delle imperfezioni, Giustiniano era quasi costretto ad affermare o da un lato che Dio l'aveva ispirato bene e lui aveva capito male, ma gli evangelisti in genere capivano bene, oppure che Dio l'aveva ispirato male, il che sarebbe stato decisamente sconveniente da un punto di vista sia pratico e sia teologico, considerando che l'imperatore non poteva sminuire la sua autorità, autorevolezza dal momento che ogni tanto nell'ippodromo scopiavano le famose controversie, battaglie politiche e almeno una volta, se non addirittura due, Giustiniano già era sulla nave per fuggire e la grandissima donna che era al suo fianco, Teodora, tiene un discorso nobilissimo, dice no, un imperatore muore sul suo trono ammazzato, non può scappare come un ladro e quindi forse gli ha salvato anche l'impero. Ma in questa fisionomia noi vediamo una cosa, il diritto del digesto costituisce, pur nell'intenzione, nel tentativo di togliere il troppo e il vano, di cercare di cancellare in qualche modo le contraddizioni, le antinomie più pesanti, ma il digesto continua ad essere il luogo degli us controverso. Perché la scienza giuridica, la scienza e quella giuridica in particolare, è per sua natura controversiale. Non è possibile che 120, 130 o quanti possano essere stati giuristi della storia di Roma la pensassero tutti allo stesso modo. Certo hanno compiuto un miracolo che è stato quello di creare progressivamente un sistema pur in una dimensione fortemente dialettica. Ma il us controverso non ci dà una regola vivibile, perché su uno stesso problema io posso identificare due, tre, quattro pareri divergenti. E allora il codice, essendo la sede in cui precipita la volontà dell'imperatore, in quella sede c'è la spesso, qualche volta, ma io credo abbondantemente, la decisione autoritativa del dissensio delle opinioni dei giuristi. E ovviamente le istituzioni sono la presentazione agli studenti di diritto di quello che è il diritto vigente da ora in avanti, da ora intendo dal 533 in poi. Ricordando che quel 533 in poi in realtà non è stato un mero conato sogno di Giustiniano, ma quantomeno è arrivato alle soglie del primo gennaio 1900 quando la Grecia abbandona l'Exabiblos di Costantino Ormenopulo, la sintesi in lingua greca di tutto il diritto romano, e abbraccia un codice civile ma di matrice tedesca per una semplice congiuntura storica. Il primo re, Giorgio, di Grecia era un danese, era un principe danese, quindi conosceva la tradizione tedesca. E nonostante le grandi discussioni tra i giuristi greci, alla fine prevalse la volontà del sovrano e si abbandonò in Grecia il diritto greco-romano. Così, molto brevemente disegnato questo affresco del Corpus Iuris Civilis, naturalmente potremmo tenere, Giovanni lo sa benissimo, non un corso, ma molti corsi solo sul Corpus Iuris Civilis e in particolare i colleghi del diritto medievale moderno, perché sono quelli che poi vedono tutta la tradizione lungo i secoli. Io ho cercato, da questa opera, che lasciatemelo dire, penso che Giovanni sia d'accordo con me, e se non è d'accordo lo prego di dirlo, non ha eguali nella storia, non ha eguali nella storia giuridica, nessuno dubita che il codice Napoleone sia una frattura e sia una novità assoluta e abbia influenzato il nostro sistema civilistico, ma la grandiosità dell'opera di Giustiniano, a mio giudizio, continua a non avere, non può avere paragoni, però è anche vero, si potrebbe dire, è come paragonare Roma con Venezia, ecco, sono due realtà, ciascuna delle quali ha le sue assolute caratteristiche. E allora per dimostrare quanto vi dicevo in pochissimi minuti, perché non voglio rubare troppo tempo agli altri colleghi, e vorrei anche sentire qualcosa delle loro conferenze, vi presenterei un piccolo quadro da questa collezione giustinianea, da questo disegno, da questo affresco. in poche battute, pochissime battute, e in pochissimi testi, vi rappresento quello che è stato l'oggetto, e sapete, il primo figlio è sempre quello forse più, non dico più amato, ma quello a cui si è più vicino. Io ne ho uno solo, e quindi concentro tutto il mio amore sul mio pergoletto, ma chi ne ha di più sa che il primo è l'imprinting, e questi testi erano oggetto della mia prima monografia, che comincia a passare i 20 anni di vita, è la questione dell'uccisione volontaria di uno schiavo altrui. Ricordiamo che per il diritto romano lo schiavo era una res, quindi una cosa. Si pone il problema se ci sia comunque un intervento del diritto criminale nel caso di uccisione di uno schiavo, ovviamente altrui, perché il Dominus, essendo una res, poteva fare tutto quello che voleva del suo schiavo. E cioè, se oltre la legislazione, se la normativa prevista dalla legge Aquiglia sul danno, danneggiamento volontario o colposo delle cose altrui, potesse intervenire anche la legge Cornelia sui sicari e gli avvelenatori, cioè per l'omicidio. Se cioè ci fosse un concorso delle due azioni, dell'azione civile e dell'azione criminale, impregiudicata l'azione civile, perché la legge Aquiglia prevedeva proprio il risarcimento, per così dire, del danno in caso di uccisione di uno schiavo. Il primo che ce ne parla è Gaio, nelle sue istituzioni, che dice che se è stato ucciso lo schiavo altrui, il proprietario ha libero marbitrium, la libera scelta, vel vel, quindi è un out-out, è un concorso alternativo, o di utilizzare l'Alex Aquiglia per farsi, tra virgolette, risarcire il danno, oppure accusare l'omicida in sede criminale. Sulla sua scia, e questa diciamo è la regola che si osservava nell'epoca antoniniana, anche prima, probabilmente dall'abeone in avanti, ci fosse un concorso cumulativo. Tu, Dominus, hai libero marbitrium. Lo sappiamo, è un concetto anche questo teologico, libero arbitrio vuol dire proprio avere la scelta tra il bene e il male, è in assoluto. E qui, vel vel, cioè out-out. Sulla stessa scia si pone in epoca severiana il giurista Paolo, testo numero due, che dice che vi sono casi in cui viene pregiudicato la possibilità di esperire il giudizio pubblico, cioè il giudizio criminale, laddove si è stata esercitata l'azione civile, in questo caso la lex aquiglia. Interdome venitut, preiudicio, miudicio pubblico fiat, sicut, in azione legis aquiglia. Quindi, se hai esercitato l'azione per il risarcimento del danno, ti è pregiudicato il giudizio criminale, cioè non puoi accusare l'altro e quindi è un'alternativa. E così per il furto, così per la rapina, così per l'esibizione delle tavole del testamento, naminis de re familiaris, de familiari agitur, dice Paolo, perché in questa situazione siamo in presenza di una questione veramente patrimoniale. Nello stesso lasso di tempo, ecco, la dissenso opinionum, interviene un piano, il quale nei testi tre e quattro dice esattamente l'opposto. Ammesso che nel primo, nel testo numero tre, dice che se taluno è stato aggredito da uno schiavo altrui armato e ladro e laddove avesse potuto semplicemente renderlo inoffessivo ma a lui toccidere, quasi malvagiamente lo abbia ucciso, non vi è dubbio che abbia commesso ciò inuria, ergo et, ergo etsiam, quindi anche si potrà agire con l'Alex Cornelia. quindi propone già il concorso cumulativo di entrambe le azioni e lo ribadisce poco dopo dicendo che se lo schiavo altrui è stato ucciso volontariamente et legge Cornelia agere dominum posse constat, anche con l'Alex Cornelia e se si sarà agito già con quella quiglia non dovrebbe essere fatto pregiudizio alla legge Cornelia. Noi sappiamo che quel non debet in questa situazione si deve tradurre con non dovrebbe perché è proprio il senso di un piano che sa di andare contro un'opinione daiana paolina e lui propone una nuova soluzione cioè quella del passaggio dal concorso alternativo al concorso cumulativo di azioni. Interviene Gordiano III che scrive guarda caso un poveretto che si chiamava addirittura Dolente nel 241 dopo Cristo il povero Gordiano III ucciso dai suoi soldati adolescente che aveva come suo primo ministro un liberto e quindi forse sensibile costui alla situazione dice è un riscritto quindi risponde a un privato dice per la morte della tua schiava che tu affermi essere stata cesa abbattuta come un albero e quindi cioè uccisa volontariamente tam legis aquiglie quam criminale accusazione quindi l'imperatore vedete che scioglie il dubbio ponendo un tam quam che è sicuramente tanto quanto competere possi non ambigiture e qui lo scopo dialettico è chiaro quando si dice non vi è dubbio che è perché il dubbio c'è stato e tutto questo viene finalmente ribadito agli studenti del diritto nelle istituzioni imperiali ricalcando Gaio et privato iudicio et capitalis criminis sia sia il giudizio privato risarcitorio attenzione notate il liberum arbitrium cede il posto a liberum arbitrium vel vel cede il posto a un liberum est et et perché non è un obbligo uno può anche non agire può agire comunque solo con una o con l'altra azione ma è anche libero di agire con entrambe e il tutto si chiude al tempo di Teodorico col paragrafo 152 del famoso Edictum Teoderici laddove dice se è stato ucciso uno schiavo altrui sia addetto oppure addetto alle attività rustiche è in potestà del suo proprietario aut criminaliter aut dedamno certe amissi mancipi civili interazione proponere ita utro uno servo duostales recipro nel regno di Teodorico nel regno romano barbarico di Teodorico si torna al concorso alternativo aut aut il vel vel di Gaio viene identificato chiaramente con aut 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 questo perché e con questo chiudo e scuso se ho preso troppo tempo più di quello che forse pensavo o mi era stato attribuito qui c'è come dire quasi una rivincita di Gaio di Paolo sia su Gordiano III e sia sul Piano perché appunto si torna al concorso alternativo ma questo perché perché il cambiamento di prospettiva non era un cambiamento formale derivava dalla concezione che i giuristi romani davano attribuivano alla legge Aquiglia di risarcimento perché in un primo tempo nella storia si riteneva che l'azione privata della legge Aquiglia avesse carattere penale cioè afflittivo in proseguo di tempo ha assunto sempre una maggiore connotazione risarcitoria che allora questo ci fa capire bene la diversità di impostazione processuale perché quando si ritiene che l'azione cosiddetta di risarcimento sia soprattutto finalizzata a punire così come l'Alex Cornelia che è criminale punisce guardate la civiltà giuridica dei romani si ritiene impossibile punire due volte il colpevole per lo stesso fatto e allora il dominus dovrà scegliere l'una o l'altra azione che sono in qualche misura apparentate dalla afflizione dell'afflittività se possiamo così dire del responsabile quando l'Alex Aquiglia viene ritenuta soprattutto risarcitoria allora il risarcimento può convivere con l'afflizione penale e ditto di Teodorico evidentemente ritorna all'idea penale anche del risarcimento dell'Alex Aquiglia e ce lo dice l'ultima frase si potrà agire anche in sede oppure si potrà agire in sede civile in modo tale che per uno schiavo ucciso il suo dominus ne riceva due uguali non sappiamo se il doppio del suo valore o due schiavi simili a lui ma cosa vuol dire che se io ottengo il doppio del suo valore ottengo un multiplo e se ottengo un multiplo la parte radicale richiama una multa e se richiama una multa richiama necessariamente una pena e quindi abbiamo ancora una volta le due dimensioni afflittive che non possono convivere ma devono essere elettive o alternative io avrei terminato se non solo facendo vedere una piccola cosa che è un mio avevo portato diverse cose nel Zeviro perché noi sapete che amanti dell'antichità uccideremo per un libro quindi il nome della rosa il romanzo non quel bruttissimo film perché Bernardo Pui non è mai morto infilzato in un caro è vissuto tranquillamente fino alla fine dei suoi giorni mettendo sul rogo molta gente e io qui ho uno degli undici tascabili cinquecentine undici volumetti tascabili cinquecentina del corpo Suori Civilis che un collega di Giovanni mi ha invidiato temuto che potesse anche cercare di rubarmelo scherzando non l'avrebbe mai fatto chi lo sa non l'avrebbe mai fatto però ecco e poi sappiamo le tantissime edizioni l'Elzeviro che sembra stampato oggi o addirittura domani talmente bello e poi un'altra un'altra gloria che è la glossa di Ugone dell'edizione di Ugone da poco e davvero mi taccio e lascio la parola agli altri Bene moltissime grazie professor Miglietta per questa bellissima interessantissima lezione che ci ha credo tutti appassionati anche diciamo coloro che sono completamente strani alla storia del diritto saranno rimasti molto interessati da questa da questa analisi che ci permette di capire meglio come come sono andate le cose insomma perché diciamo per noi molto il discorso è molto semplificato soprattutto per i non addetti ai lavori siamo abituati a considerare il corpus come qualcosa diciamo di più che definito e di più che chiaro e senza dubbi e contraddizioni a questo punto io approfitto per salutare il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona Stefano Scaramuzzino che si è unito a noi questa sera buonasera Stefano benvenuto e apro appunto la discussione sull'intervento del professor Miglietta qualcuno ha qualche osservazione domanda forse se posso prego se posso rispondere ringraziare per il benvenuto e anche per aver avuto il piacere di riascoltare la lezione del professor Miglietta questa volta in un'altra sede però dopo qualche anno dalle lezioni universitarie mi rendo conto come nell'esercizio dell'applicazione del diritto i meccanismi che si creano sono esattamente gli stessi che avevano luogo da parte degli esecutori del diritto romano ossia all'estero come dei funzionari imperiali abbiamo una legge con cui dobbiamo interagire quella del diritto italiano e quella del diritto locale e spesso ci ritroviamo a avere ecco si dice in claris non fit interpretatio però le cose sono eufemisticamente ben lontane dall'essere chiare e pertanto il primo approdo che si cerca il primo approdo sicuro è l'esperienza degli altri colleghi quindi esiste una rete tra noi funzionari per cercare di interpretare quello che sembra essere il testo inequivoco ma che invece è molto pieno di equivoci e quando non si trova un ritiego sicuro nell'esperienza altrui si prova allora a cercare l'interpretazione autentica del legislatore e anche alle volte in questo caso aspettiamo il rescripta imperiali che molto spesso hanno più valore che non una legge o una norma esplicita pertanto sembra quasi di essere tornati nell'applicazione del diritto vivente a un modello romano almeno per la nostra piccola esperienza con poi qualche collega volenteroso che prende questa pratica prende questa rescripta queste mail del ministero e redige delle guide pratiche che spesso hanno un valore autoritativo superiore al valore potestativo dell'opera e che diventa quasi legge vigente quindi da questo lato dell'applicazione del diritto mi ritrovo sorprendentemente a realizzare tutto ciò quindi è vero che il corpus iuris ha una valenza è vero universale è un valore che supera i secoli quella delle sue contingenze storiche però il modello di raffinatezza del ragionamento giuridico per cercare di dirimere questioni che formalmente sono le stesse resta eterno grazie grazie mi fa immenso piacere rivederla bene non so se qualcun altro vuole esprimere qualche opinione forse Giovanni no nel senso che Massimo è così preciso e puntuale che non potrei che dire ha espresso benissimo ha assolto benissimo al suo compito di rappresentare qual è il ruolo di Giustiniano storico e l'importanza del corpo suvis all'interno del corpo suvis del digesto per cui e poi naturalmente ci ha guidato con sapienza in quella interpretazione di quelle norme per cui non ho nulla a raggiungere se non un applauso alla chiarezza perché poi non è semplice essere chiari in pochi minuti su questi temi ecco tutto qua sì effettivamente la chiarezza era esemplare devo dire benissimo allora ringraziamo ancora molto il professor Miglietta per la sua partecipazione per questo interessantissimo intervento a questo punto la tematica dell'intervento del professor Miglietta introduce perfettamente la seguente che è quella del professor Giovanni Rossi dell'Università di Verona che è professore di storia del diritto medievale e moderno e che oggi ci parlerà appunto della tradizione iconografica di Giustiniano in epoca moderna quindi non nel medioevo ma come l'immagine di Giustiniano si è evoluta poi e si è tramandata nell'epoca moderna e come questa immagine questa figura del legislatore abbia dei legami con l'iconografia e l'azione poi legislatrice anche di Napoleone Buonaparte quindi io ringrazio molto anche il professor Giovanni Rossi per la sua presenza e gli lascio la parola prego grazie mille devo dire io grazie per essere qui perché questi seminari sono davvero molto interessanti e quindi non posso che applaudire alla la nostra Maria Vilotta Maria Alessandra Vilotta perché francamente è stata in grado di organizzare un progetto di ricerca e soprattutto di dargli attuazione perché i progetti di ricerca cartacei sono relativamente facili da scrivere ma realizzarli poi così come li vedo realizzati in corso d'opera non è altrettanto semplice grazie dunque di avermi coinvolto in questa occasione come in altri ecco a me tocca un un mestiere un po' più un po' più difficile di quello di Massimo perché io mi avventuro in qualcosa che non è esattamente il mio pane quotidiano ecco però mi è sembrato molto interessante cercare di rappresentare in chiave diacronica la rappresentazione iconografica appunto di Giustiniano cercando di dare una motivazione naturalmente una lettura in filigrana di questa presenza così costante appunto della figura di Giustiniano e non semplicemente della figura di Giustiniano ma di Giustiniano legislatore dal Medioevo fino al presente in sostanza allora vado a condividere lo schermo se tutto se ci riesco e direi che non ci sto riuscendo in questo momento allora riapriamo un attimo ci siamo ok ecco 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 ora doveste vedere vero perfetto allora io parto parto facile quindi parto con l'immagine di Giustiniano che tutti noi abbiamo in mente sin dalla scuola in sostanza Giustiniano così come rappresentato nel mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna insieme agli altissimi dignitari ecclesiastici c'è i laici insieme ai militari verosimilmente di fianco a lui c'è anche Belisario quindi qui abbiamo Giustiniano in tutta la sua magnificenza di imperatore umano e di Basileus anche direi da qui però poi ci allontaneremo perché questa immagine è un'immagine diciamo generica che riguarda Giustiniano nella nello splendore della sua potenza della sua potestà però nonostante che Giustiniano abbia un ruolo storico ben preciso importantissimo direi forse non innanzitutto ma sicuramente anche come riconquistatore dell'Italia al termine di quella più che ventennale guerra goto-bizzantina che tanti lutti e tante tante macerie lascia e abbatte il regno dei vandali combatte con alterne vicende con i persiani insomma sicuramente il suo regno è stato anche un regno dove l'aspetto militare è stato importante però accanto all'aspetto militare sicuramente il suo progetto di ricostituzione di riportare in auge l'essenza del diritto romano è quello che forse lo ha contraddistinto di più perché in fondo la riconquista militare dell'occidente dell'ex imperio romano d'occidente poteva anche essere facilmente come dire ipotizzabile da qualunque imperatore bizantino diciamo che io considererei già Giustiniano con un piede nell'impero bizantino e con uno ancora in quello romano ma il suo progetto di restaurazione del diritto romano è davvero qualcosa di geniale probabilmente lui lo mette appunto sotto input di Tribuniano però di fatto lui lo avalla e lo autorizza per cui è corretto intestare innanzitutto a Giustiniano questa grandiosa operazione di recupero del diritto romano e come diceva giustamente Massimo Miglietta il corpus di civilis è rimasto nei secoli come una pietra miliare che ci ha offerto una visione sintetica diciamo così del diritto romano naturalmente noi qui astraiamo da un giudizio storiografico approfondito Giustiniano è stato visto da un lato come appunto colui che ha salvato tanta parte del diritto romano classico è stato visto però contemporaneamente anche come colui che così facendo ha condannato in qualche modo quello che non è confluito nelle sue grandi compilazioni all'obbligo definitivo se non avremo fortuna di trovare qualche altro codice che finora però ci è sfuggito quindi lasciamo perdere un giudizio storiografico attuale e stiamo invece a come viene presentato a come si presenta Giustiniano presso i posteri e quindi passiamo subito al basso medioevo perché la compilazione le compilazioni Giustiniano in realtà nell'alto medioevo in occidente ovviamente io non sto facendo un discorso relativo all'impero bizantino ma all'occidente in occidente sostanzialmente letteralmente scompaiono spariscono per due motivi essenziali uno perché sono sono difficili sono testi giuridici sono testi ipertecnici soprattutto di gesto e quindi non sono facilmente comprensibili e neanche meno utilizzabili da notai da scribi da tabelliones da quel personale che qualcosa di diritto sa ancora ma ad un livello francamente bassissimo una vera scienza iuris nell'alto medioevo come tale probabilmente si perde definitivamente nell'ottocento sono stati ricercati quasi maniacalmente dei frustuli delle vestigia di una scienza giuridica a Roma a Ravenna o altrove e non si è trovato sostanzialmente quasi nessuna traccia per cui si va avanti per apriori non può non esserci stato qualche segnale qualche ricordo ma non si va oltre di fatto noi non abbiamo delle testimonianze mentre invece il basso medioevo tra gli elementi di rinascita culturale e sociale e politica del basso medioevo noi abbiamo anche la riscoperta e il rinnovato studio del corpo di Cilinis l'università di Bologna diventa l'università di Bologna Alma Mater Studiorum esattamente perché Ivnerio ha l'idea che tutto sommato forse è il caso di spostarsi lui almeno secondo il racconto tradizionale di Odofredo professore di diritto alla metà del 200 a Bologna che secondo me è abbastanza plausibile io sposo la tesi di quelli che di fronte ai racconti delle fonti medievali tutto sommato non le metto in discussione a priori cioè naturalmente vanno completate vanno guardate in controluce vanno bisogna sempre sospettare del perché certe cose siano state dette tramandate esattamente come per qualsiasi fonte non credo che le fonti odierne siano come dire più oggettive più affidabili di quelle medievali però detto questo se non c'è un motivo veramente cociente per rifiutare il racconto tradizionale per quanto mi riguarda lo possiamo accettare il racconto tradizionale di Odofredo è che Ivnerio sarebbe stato un magister Arzium a Bologna che poi si sarebbe specializzato focalizzando la sua attenzione sul diritto in particolare con la con la renovazio dei libri legales presumibilmente questo non ce lo dice Odofredo anche per una qualche forma di collaborazione di input che sarebbe venuta da Matilde di Carossa quindi a me sembra vero simile perché Ivnerio tutto sommato come maestro di arti liberali aveva da un lato sul tavolo di lavoro i testi che erano rimasti in circolazione classici antichi quindi piuttosto che insegnare la grammatica su pisciano o usare cicerone l'idea di spostarsi sui testi antichi giuvidici mi sembra un'idea che gli possa essere venuta abbastanza facilmente da un lato e dall'altro lato quella che poi diventerà l'università medievale che rimane fino ad oggi nonostante tutta l'opera di picconamento non ho ben capito se consapevole o inconsapevole dei nostri politici degli ultimi anni e decenni per distruggerla intendo dire però nonostante tutto è l'università che ancora oggi rimane in piedi fondata sostanzialmente su due aspetti e sottolineo su due aspetti lascerei da parte la terza missione che è un figlio spurio appunto delle teorie odierne su che cosa dovrebbe fare il professor universitario e che cosa dovrebbe essere l'università ma l'università nasce per fare ricerca al livello più alto possibile e per immediatamente dopo diffondere il sapere che si è realizzato attraverso questa attività di ricerca appunto ad un pubblico di studenti interessati quindi la ricerca e la didattica sono le due facce della stessa medaglia ora francamente unirnerio magistratium mi quadra con un personaggio che si sposta dallo studio dei testi grammaticali retorici dell'antichità a quello dei testi giuridici e che però immediatamente dopo pensa che abbia senso e sia importante appunto diffondere questo sapere ad una platea di studenti e questa è l'università detto in sintesi allora da lì ripartiamo ma ripartiamo facendo base essenzialmente in fondo Massimo Viglietta ha parlato essenzialmente del digestro facendo base essenzialmente sul digestro sulle pandette e il corpus civilis è importante perché ci dà l'idea di una di un progetto complessivo di recupero delle varie fonti del diritto romano però è notevole che ancora all'epoca di Giustiniano e Tribuniano per lui abbiano la piena consapevolezza del fatto che l'essenza del diritto romano sta nella scienza iuris sono i giuriconsulti e in particolare i giuriconsulti attivi in quello che già i romani individuano come il periodo classico della loro giurisprudenza sono i giuriconsulti che hanno in sostanza implementato fatto coesistere in tutti delle varie fonti del diritto romano e hanno consentito di elaborando delle dottrine e delle teorie progressivamente sulla base di un dibattito dottrinale appunto di un confronto scientifico serrato appunto le varie scuole che si sono succedute e che si sono contrapposte hanno prodotto un diritto all'altezza della delle necessità di una società come quella di Roma che diventa da un piccolo assemblaggio di villaggi sul Tevere nell'ottavo secolo a.C. diventa la padrona del mondo e quindi una megalopoli che governa un impero davvero mondiale allora il digesto è sicuramente il cuore del corpus civis civis noi giustamente lo rappresentiamo come un insieme un corpus unitario però le varie compilazioni hanno una loro identità precisa e è notevole che un giustiniano che da Costantino in poi è l'erede di una evoluzione barra involuzione del diritto romano che tende a trasformare il diritto tutto in legge a identificare il diritto in legge del sovrano è notevole che nonostante tutto però giustiniano e timoniano abbiano ancora la consapevolezza che la fonte che ha reso il diritto romano ineguagliabile è qualcosa di non paragonabile agli altri diritti dei dati popoli dell'antichità è proprio l'attività della scienza iuris che viene salvata nella sua parte migliore a giudizio timoniano secondo il giudizio timoniano appunto nel digesto da qui si riparte perché guarda caso la scienza iuris stavolta in basso medievale riparte esattamente nel momento in cui il nero recupera i manoscritti dico al plurale perché li recupera a pezzi e sarà una una tradizione che poi rimarrà nella scuola giuridica bolognese e poi in tutte le altre università perché lui appunto ritrova il vetus ritrova il novum ritrova l'inforziatum e questa tripartizione che non ha nessun significato dal punto di vista dei contenuti non ha un significato scientifico rimane perché è comoda tutto sommato maneggiare letteralmente maneggiare il manoscritto delle pandette è quasi impossibile e quindi dividerlo in tre e poi suddividere in tre anni diversi in tre corsi diversi l'insegnamento sul digesto lo rende un po' più abbordabile quindi dicevo Irnerio ritrova i manoscritti del digesto e da lì parte la sua avventura intellettuale che consente di assistere alla rinascita della scienza giuridica non sul codice già pepone già altri autori prima di Irnerio avevano sotto mano le istituzioni e il codice e la scintilla non era scoccata in sostanza per diventare giuristi c'è bisogno di confrontarsi e di studiare un metodo di lavoro tipico dei giuristi e questo lo si ritrova nel digesto nel codice si trova soltanto un insieme di leggi e non è la stessa cosa e le istituzioni sono a livello troppo basso perché sono appunto istituzioni cioè un manuale introduttivo che non è sufficiente allora è significativo che quasi tutte le immagini che stiamo per vedere ora acceleriamo perché non voglio perdere troppo tempo e prendere troppo tempo tutte le immagini che stiamo per vedere non fanno riferimento al giustiniano imperatore punto e basta al grande sovrano che ha riconquistato Roma e abbattuto alcuni regni germanici o romano germanici ma fanno sempre specificamente riferimento al giustiniano legislatore non solo in particolare fanno riferimento al giustiniano che ha prodotto che ha prima ordinato a tribuniano di comporre e che poi ha promulgato il digesto non c'è alternativa quindi noi abbiamo sostanzialmente due immagini che si alternano o quella di tribuniano che offre a giustiniano il prodotto compiuto della sua fatica e quindi il digesto ormai ultimato oppure giustiniano che promulga direttamente il digesto non il codice non il corpus iuris e allora arriviamo al medioevo questa è una una miniatura medievale dove naturalmente a corvedo della divina commedia il ecco l'immagine complessiva è questa abbiamo la miniatura del canto sesto sesto del paradiso e quando si focalizza attenzione su giustiniano voi vedete che ha intorno ai suoi piedi appunto i vari i vari tomi del corpus iuris civilis quindi giustiniano è del resto Dante stesso in sostanza lo caratterizza innanzitutto come appunto l'autore del corpus iuris civilis comunque ricordiamo sempre che i medievali non parlano di solito di corpus ma parlano di liberi legales al plurale e sono forse più più attenti di noi a questa diversificazione mentre noi lo riuniamo il tutto in una operazione unitaria ma l'interessante per quello che volevo dire oggi arriva direi con questa con questa immagine direi celeberrima qui siamo nella stanza della segnatura e abbiamo appunto giustiniano che riceve il digesto da Tiboniano la stanza della segnatura affrescata da Raffaello e dai suoi aiuti agli eri quindi verosimilmente questo non è Raffaello ma è Lorenzo Lotto comunque sicuramente un dipinto di grande bellezza ecco tra parentesi io non sono uno storico dell'arte ma queste immagini che pure sono di solito anche molto belle perché affidate a grandi artisti perché devono comparire in luoghi che sono pubblici di solito e che sono politicamente rilevanti rimane il fatto che per me queste immagini sono importanti prima che perché sono belle perché sono appunto esplicative di un pensiero queste immagini non sono qui a caso soltanto per fare per riempire gli spazi con affreschi che abbiano un qualche ricordo dell'antichità no qui si fa riferimento da qui in poi esattamente ad un momento topico nella storia occidentale riconosciuto come tale ancora nella modernità nella prima modernità come in questo caso all'inizio del 500 fino addirittura al 1900 e quindi divertente vedere che qui Giustiniano è vestito all'antica ma guarda caso Tribuniano e gli altri dotti che lo attornano sono vestiti come direi come dei professori medievali quindi abbiamo questa commistione di piani andando oltre ecco questa è un'altra innanzitutto bellissima bellissima raffigurazione qui abbiamo un ritratto palesemente idealizzato dall'imperatore Giustiniano nella cerchia del Holbein all'inizio del XVI secolo ma come vedete sì alla comuna allo scettro ma davanti a sé il libro aperto di nuovo del Dicestro ancora in questo caso invece abbiamo l'imperatore Giustiniano come sovrano e non come sovrano legislatore ma un po' l'eccezione alla regola però l'immagine è bella e significativa la sua collocazione quindi ve la propongo lo stesso appunto vedete Giustiniano il grande e qui siamo di fronte ad un ritratto ricavato da Giovanni Battista Cavalieri nell'opera Romanorum Imperatorum Effigies della fine del Cinquecento questa non è la prima edizione ma comunque di qualche anno successivo e questa è una effigie un'immagine che rimane topica la ritroviamo non tanto qui poi ci ritorniamo ma la ritroviamo ad esempio ad esempio qui qui siamo già molto oltre siamo nel Settecento e qui vedete che si invece si sottolinea il fatto che Giustiniano è innanzitutto un sovrano vittorioso per cui vediamo l'elmo e vediamo in una di queste medaglie leggiamo Vittoria quindi qui non è tanto il legislatore ma è il Cesare Vittorioso ma se torniamo un attimo indietro a questa questa bella illustrazione di fine Cinquecento voi vedete qui di nuovo Giustiniano che addirittura con la penna in mano sarebbe lui stesso che avrebbe vergato dunque i testi e naturalmente qui non vediamo dei votori antichi ma vediamo esattamente dei volumi come delle Cinquecentine in sostanza con le tipiche legature dell'epoca quindi Giustiniano che è insieme condottiero militare ma che in realtà appunto si caratterizza per la sua attività di legislatore e qui ancora abbiamo della crua quindi siamo all'inizio dell'Ottocento l'imperatore Giustiniano che compone stavolta le istituzioni e quindi di nuovo Giustiniano che è padre del diritto di un diritto che si è protatto nella sua vigenza nei secoli ecco una cosa interessante fino ad ora diciamo fino al Settecento non ricordo che cosa abbiamo su dopo no allora aspettiamo fino al Settecento si appurve strumentalmente l'idea del diritto umano è tanto uguale diritto Giustiniano e l'idea del diritto umano Giustiniano è l'idea di un diritto in qualche modo vigente da Ernerio in poi i giuristi medievali hanno ritenuto che fosse indispensabile per la loro operazione di recupero e di affermazione di una scienza giuridica degna di questo nome potersi avvalere come dire della base autoritativa romana in realtà loro non vogliono diventare storici del diritto umano non ne sanno nulla della storia di Roma in quanto medievali e non ne vogliono sapere nulla ma se si presentano come privati interpreti sto riecheggiando l'incipit l'avvertenza a chi legge del beccaria dei diritti delle penne come privati oscuri interpreti della legge in realtà le loro opinioni sono tali sono opinioni per cui possono essere anche non solo discusse ma anche rigettate se invece si presentano come necessari come dire personaggi gli unici ad avere il know-how sufficiente e necessario per dar voce alla voce di Giustiniano legislatore ecco che a questo punto il loro ruolo diventa ben maggiore ben più importante quindi è pur cause che da Evnerio in poi convintamente i giuristi medievali di Juscomune affermano che il diritto romano giustiniano è ancora vigente questo è da un lato perfettamente coerente con la visione medievale per cui si parla di rinnovazione imperi ma se l'impero è stato rinnovato e non è il sacro romano impero non è qualcosa di veramente nuovo ecco allora che anche il diritto imperiale non è mai stato non è mai stato abrogato e quindi le compilazioni giustiniano possono considerarsi ancora vigenti nella sostanza delle cose e questo non crea nessun problema ai giuristi medievali perché il giurista per definizione interpreta lo sapeva anche giustiniano tant'è vero che l'ha vietato nella Costituzione Tanta che promulga il digesto lui vieta fermamente esplicitamente tassativamente a chiunque e ovviamente innanzitutto ai giuristi di interpretare come citava prima Massimo Miglietta appunto tutto ciò che è ammissibile è soltanto una traduzione catapoda cioè letterale pedissequa perché la traduzione pedissequa è quella che si spera che possa essere la meno libera possibile ma per il resto non è possibile far niente sui testi giustiniani e infatti non l'ho inserito qui ma faccio vedere sempre ai miei studenti una pagina della lettera florentina da lettera pisana e la lettera florentina che è un manoscritto di poco posteriore verosimilmente all'epoca di giustiniano non ha glosse non ha commenti è in tonso perché? perché si rispetta il divieto di interpretare di giustiniano un divieto di interpretare che aveva previsto una sanzione grave poiché i giuristi che interpretano praticamente sostituiscono la loro la loro volontà a quella del sovrano legislatore e dunque suvettiziamente falsificano la norma sostituiscono una norma nuova di loro produzione a quella del legislatore l'unica autentica ecco che sono né più né meno che falsare è come se coniassero un testamento un testamento falso un contratto falso e quindi vanno incontro nell'esplicito risposto della Costituzione 80 vanno incontro appunto alle pene previste per i falsari quindi si macchiano di un crimine sono falsari vengono vengono puniti e per l'altro verso il frutto della loro interpretazione non potrà che subire la sorte appunto dei falsi cioè deve essere distrutto non sono bozzette di Gucci o di Fendi false sono sono leggi che sono spacciate per la voce e la volontà dell'imperatore ma che in realtà sono il frutto di una interpretazione dei giuristi e quindi i loro i loro volumi dovranno essere dati alle fiamme distrutti d'Uciani questo stabilisce Giustiniano questo non fanno i medievali che glossano parola per parola il testo giustinianeo quindi lo conoscono alla perfezione lo conoscono a memoria sanno che senza un approccio analitico fino alle estreme conseguenze non possono impadronirsi di testi così tecnici e così lontani nel tempo ma sanno anche che appunto questi testi per essere rimessi in circolo devono essere interpretati e per interpretarli devono far finta che la Costituzione 80 non ponga quel divieto e infatti nonostante che glossino tutto il Corpus Civis Civilis e guarda caso si volgono da un'altra parte quando arrivano a leggere e a interpretare quelle norme per cui se la pagina della ritta florentina è in tonza prima di grosse e i manoscritti recanti il testo del Corpus Civis Civilis e in particolare del Dicesto i manoscritti medievali sono assolutamente pieni di grosse il testo romano è sovrastato circondato e quasi soffocato dalle grosse medievali che consentono di rimettere in circolo quei testi ma naturalmente aggiornati manipolati modificati sostanzialmente nel contenuto normativo ogni volta che è necessario allora questo approccio però non dura fino ad oggi sappiamo bene che a un certo punto si cessa di far finta di credere che il diritto romano giustiniano sia vigente e noi abbiamo in particolare un momento topico di rottura che è data alla seconda metà del Settecento in realtà già gli umanisti naturalmente hanno avviato un approccio storicistico al digesto del Corpus Civis Civilis portato avanti poi dai giuristi umanisti dal Ciatto in Ponte ma nonostante tutto anche giuristi umanisti italiani Ciatto elegante olandese e via dicendo in realtà non intaccano il dogma della presunta vigenza ancora nella modernità del Corpus Civis Civilis per i motivi che ho detto tutto questo cambia e si comincia a dire che il re è nudo nella seconda metà del Settecento quando abbiamo gli illuministi che ormai cominciano a pensare che ciò che ancora osservano nell'assetto sociale politico economico e giuridico della società europea e che viene dal Medioevo è qualcosa di intollerabile è qualcosa che impedisce alla società europea di vivere liberamente e di espandersi e di affidarsi al futuro e quindi per ricettare quello che di a poco sarà definito specificamente antico regime sono consapevoli del fatto che bisogna innanzitutto come dire svellere dalla centralità che ancora ricopre il diritto romano giustiziano quindi gli illuministi della seconda metà del Settecento cominciano ragionando di diritto anche quando non sono giuristi anche quando sono filosofi anche quando sono economisti perché ritengono giustamente che il diritto rappresenti un formidabile strumento di come dire che fa da substrato tutta quella organizzazione sociale che loro ritengono ormai da abbattere e allora il primo passo da fare è quello di negare uno la vigenza del diritto romano giustiziano due la sua bontà intinseca quindi l'impero romano è l'impero di Roma Antica punto primo il diritto romano di conseguenza è il diritto di un'epoca storica ormai terminata in secondo luogo quel diritto romano in ogni caso non è razio scritta perché non contiene il meglio di ciò che si è prodotto sul piano delle previsioni giuridicamente rilevanti e vincolanti nella storia dell'uomo anzi la gran parte dei testi normativi raccolti nel Corpus Juris in realtà appartengono o a giuristi che non sanno nulla ad esempio della rivelazione non sono cristiani oppure a imperatori che magari hanno addirittura perseguitato i cristiani ad alcuni degli imperatori più sanguinari e più ingiusti che la storia ricordi quindi ricordiamo del resto che il diritto romano prevede la schiavitù prevede una serie di istituti assolutamente con l'ottica moderna iniqui quindi il diritto romano non è spendibile come diritto vigente e neanche come modello dal punto di vista dei contenuti e bisogna passare oltre ed è il momento nel quale si vede proprio c'è proprio se leggiamo le fonti un passaggio un cambiamento di atmosfera diciamo di atteggiamento veramente intorno alla metà del settecento fino alla metà del settecento il diritto romano ha ancora uno spazio e un ruolo donore nell'organizzazione giuridica sociale politica dell'Europa dalla metà del settecento e poi invece comincia a essere considerato una parte anzi la parte principale del problema che si vuole risolvere abbattendo l'antico legge e da qui derivano le gli appellativi negativi nei confronti e gli improprieri nei confronti di Giustiniano in realtà Giaballa lo aveva lo aveva maledetto proprio perché appunto il digesto rappresenta un diaframma che ci ha impedito storicamente di entrare nel rapporto di vetto con le opere dei giuristi classici ma Balla è un personaggio un po' sui generis alla fine del settecento è un colo basta ricordare tra i tanti il le apostofi di Alessandro Perry in alcuni articoli Alessandro Perry è il più giurista dei due fratelli Perry che noi ricordiamo in alcuni articoli del caffè e lui davvero qualifica Giustiniano con gli appellativi peggiori allora nonostante questo noi abbiamo però poi vado a chiudere perché altrimenti parlo troppo e già mi scuso di aver parlato troppo nonostante questo però nell'ottocento noi vediamo osserviamo il recupero nonostante tutto del diritto umano nel momento in cui con la restaurazione la restaurazione arriva ma in realtà non restaura veramente ciò che esisteva nei sistemi giuridici e politici settecenteschi la storia è andata avanti ecco comunque nel momento in cui si cerca di dare stabilità al nuovo assetto ottocentesco il diritto umano viene di nuovo considerato come un elemento importante in questo in questo quadro con questa funzione e di nuovo ritorna prepotentemente alla ribalta Giustiniano come sovrano legislatore ed ecco dunque che noi abbiamo ad esempio qua Vincenzo Camuccini siamo nel 1840 e lui è uno dei più importanti esponenti del neoclassicismo italiano è un restauratore molto molto attivo nella Roma dei Papi e non solo ecco qui abbiamo qui è una variante non è tanto Tribuniano che offre il digesto finito a Giustiniano ma è Giustiniano che consegna a Tribuniano le leggi sulla cui base poi Tribuniano compilerà il digesto e il corpus in genere e ancora e questo devo dire che è molto molto bello e molto scenografico ecco che in realtà alla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento c'è la grande stagione del recupero appunto del momento topico della promulgazione del digesto in palazzi di giustizia in luoghi deputati appunto alla amministrazione della giustizia un po' in tutta Europa e quindi qui siamo a Cassel e l'affresco che si deve si deve proporre di fianco alla scalinata che porta al piano nobile del palazzo di giustizia di Cassel appunto abbiamo Tribuniano che offre a Giustiniano in trono il digesto e qui abbiamo una rappresentazione di come si presentava il palazzo di giustizia di Cassel quindi questo affresco che era la prima cosa che si vedeva e che accompagnava la salita delle scale di coloro che dovevano andare in tribunale e qui abbiamo poi un'altra famosa un'altra famosa opera qui siamo al palazzaccio a Roma corte di Cassazione il palazzo di giustizia romano che viene affrescato da Cesare Maccari noi sappiamo poi che Cesare Maccari però avrà una paralisi nel 1909 quindi il suo lavoro sarà finito dal suo allievo Pavide Pascucci e qui tra le tante rappresentazioni esempi di giustizia ricordiamo che il il progetto iconografico è sovrainteso da Giuseppe Zanatelli il padre del codice penale unitario ministro di giustizia in più occasioni nonché nonché anche presidente del consiglio all'inizio del novecento esattamente in questi anni in cui si avvia la decorazione della corte di Cassazione ecco dunque di nuovo Giustiniano in trono stavolta la come dire le conoscenze storiche sono vengono raffinate quindi è presente anche anche Teodora Massimo ci raccontava appunto ci ricordava il ruolo importante di Teodora per molti storici in realtà è una diarchia non c'è solo Giustiniano che governa il sedentrono ma lo fa insieme a Teodora e quindi Tevoniano che offre ad entrambi i coniugi il digesto e vedete che qui in basso ci sono i rotoli e i volumi del vecchio delitto che ormai non servono più e che verranno gettati qui siamo all'inizio del novecento vado a finire interessante che questa immagine topica di Giustiniano legislatore passi anche l'oceano perché è interessante perché finora abbiamo visto una tutto tutte queste rappresentazioni sono all'interno della tradizione giuridica europeo continentale ma quella anglosassone è diversa parzialmente almeno è diversa e lì l'idea della legge al centro in realtà non è così condivisa è più importante il ruolo del giudice la common law si struttura in una maniera direi alla medievale e quindi molto meno molto meno schematica nell'identificare la legge con il diritto o meglio il diritto solo con la legge e però qui nel dipartimento di giustizia di Washington noi abbiamo la grande tradizione giuridica occidentale che viene richiamata Solone al centro Papiniano grande giurista da un lato e dall'altro lato giustiniano e per finire abbiamo anche alla corte d'appello civile palazzo giustizia di Milano ecco il Carlo Carvà che rappresenta rivisitato un giustiniano che ha in mano di nuovo i testi delle leggi e che sta liberando uno schiavo qui invece abbiamo recentissima una statua di giustiniano a scopie quindi il suo luogo natale dove ancora una volta penso che lo si veda bene giustiniano si caratterizza per l'insegna del potere ma perché ha il libro del digesto sotto la mano ho parlato troppo solo un minuto garantisco il giustiniano moderno sarebbe sarebbe in realtà Napoleone è Napoleone che legifera e che propone un modello di testo normativo alternativo a quello antico che lo soppianca un testo che non è più semplicemente un raccoglitore di scienza giuridica e di sapere giuridico ma che vuole essere l'alfa e l'omega del diritto vigente il codice è questo un testo esaustivo non etero integrabile autosufficiente un sistema chiuso di diritto bastevole non bisogna andare oltre non c'è nient'altro da cercare e Napoleone figlio del suo tempo capisce l'importanza della sua operazione di codificazione lui è il padre del coro civile nel 1804 ma in realtà a seguire dal 1804 al 1810 promulga 5 di codici promulga il codice di procedura civile quello del procedura penale il codice penale e anche il codice di commercio bene appunto la propaganda dell'epoca napoleonica ce lo propone come grande sovrano naturalmente vittorioso in battaglia ma anche innanzitutto come legislatore qui addirittura intento lui a scrivere il codice civile immagine che noi vi troviamo se andiamo a a les invalides a Parigi questo è il basso videvo che ci rappresenta un Napoleone naturalmente trasfigurato questo è il genio di Napoleone il quale appunto indica da un lato vediamo se si riesce a vedere meglio così finisco qui da un lato il diritto romano vedete l'istituzione di Giustiniano ma dall'altro lato il prodotto della sua attività il codice napoleonico con questa frase che viene scolpita sotto e che è ricavata dalla biografia di Napoleone che è scritta prima che egli muoia quando è in esilio e lui avrebbe detto il mio solo codice per la sua semplicità ha fatto più del bene in Francia che la massa di tutte le leggi che lo hanno preceduto e infatti in questa in questa raffigurazione noi abbiamo per terra appunto vedete gli scartafacci i volumoni del vecchio diritto consuetudinario che ormai non servono più la cosa significativa è che però Napoleone non riesce davvero a sostituirsi a Giustiniano Napoleone avrà questo tipo di iconografia tutta in Francia e nella prima età dell'Ottocento ma noi abbiamo visto che in realtà riprendene riprendono dopo alla fine dell'Ottocento e nel Novecento riprende quando si vuole sempre ancora raffigurare un un sovrano legislatore è questa l'immagine Giustiniano Giustiniano che propulga il Dicesto scusate se la lunghezza e grazie dell'attenzione molte grazie Giovanni una relazione molto interessante veramente che mette l'accento su su una tradizione iconografica che è importante per il significato appunto che l'azione giustiniana ha proprio per tutta la legislazione europea anche contemporanea e moderna non so se ci sono domande per il professor Rossi qualcuno ha qualche curiosità qualche qualche dubbio no era tutto estremamente chiaro io ritengo che sia avevo una domanda per il professor Rossi che spiegazioni si è dato per la raffigurazione di Giustiniano mascherato al Dipartimento di Giustizia di Washington lei ha colpito il segno come avrà notato ho glissato perché francamente me lo sono chiesto ma non io non mi so dare una spiegazione perché non la riconnetto a nulla né nella vicenda storica effettiva di Giustiniano né in quello che poi se ne tramanda mi ripromettevo in effetti di controllare meglio forse coloro che appunto hanno studiato questi affreschi l'hanno approfondito io francamente non le saprei rispondere mi ha molto incuriosito anche a me perché non è coerente in tutte le altre come abbiamo visto in tutte le altre immagini quel tema lì non c'è non saprei che dire francamente non saprei che dire mi coglie giusto nella cosa su cui non so rispondere allora alla prossima conferenza va bene volentieri bene allora se non ci sono domande io solo appunto non è una domanda è solo un apprezzamento ritengo molto interessante fare svolgere questa panoramica perché spesso ci blocchiamo un po' sulle iconografie strettamente medievali invece è bene anche vedere come diciamo tutto ciò che il medioevo ha lasciato poi viene trasportato nei secoli successivi perché c'è tutto un lungo processo di rielaborazione non solo iconografico insomma non solo riguardante le iconografie che è importantissimo anche per la trasmissione anche per la percezione che noi poi abbiamo del mondo medievale che deriva anche molto da questo lungo processo di mediazione che dura secoli e che è un processo anche di trasformazioni concettuali che poi ci hanno condizionato nella nostra nella nostra visione del medioevo benissimo allora se mi posso permettere hai perfettamente ragione e devo dire che ha stupito anche me ma in effetti sì noi siamo abituati purtroppo appunto a causa degli illuministi a vedere il medioevo come una parentesi che per fortuna è finita ma in realtà evidentemente ci sono una serie di come dire hanno lavorato anche in profondità queste idee e hanno attecchito perché altrimenti non si spiega questo recupero che non è semplicemente non si riallaccia solo semplicemente direttamente all'antico ma sicuramente ha proprio il basso medioevo assolutamente il medioevo è stata diciamo proprio la culla della cultura europea moderna cioè senza medioevo non ci sarebbe stata poi tutto quello che c'è stato dopo perché non c'è un'annegazione un oscurantismo di quello che c'era prima ma c'è proprio una continuità in qualche modo cercano di trasportare tutto quello che c'è stato prima seppure ovviamente mediandolo con le nuove concezioni e i nuovi pensieri che si inseriscono insomma nel mondo medievale però sicuramente sono la base di tutto quindi questo è questo è certo benissimo grazie ancora Giovanni allora a questo punto passo la parola a Maria Careri che è professore all'università di Chieti di filologia romanza che si occupa da anni di canzonieri provenzali ma che oggi non ci parlerà di canzonieri bensì di una sua recente scoperta e cioè diversi volgari inseriti in manoscritti giuridici a modi riempitivo quindi io con molta curiosità e molto volentieri lascio la parola a Maria Careri prego grazie scusate condivido un attimo lo schermo vorrei metterlo in scusate no lo volevo mettere eccolo in presentazione ora in presentazione per voi in presentazione devi andare sul quadratino però non lo vedo eccolo eccolo ci sono perfetto adesso sì non è all'inizio allora buongiorno a tutti mi sentite sì si sente bene benissimo benissimo allora ringrazio Maria Alessandra e ringrazio anche i due colleghi che mi hanno preceduto dai quali ho imparato molto perché come avete sentito vengo da un campo completamente diverso però appunto ultimamente ho frequentato un pochino i manoscritti trecenteschi due trecenteschi giuridici mi riallaccio a quanto diceva appunto il Giovanni Rossi un momento fa cioè del testo soffocato dalle glosse nei manoscritti medievali vi faccio vedere un esempio su cui poi ritorneremo dopo la cosa che interessa che mi interessa è per iniziare l'architettura della pagina in questo tipo di manoscritti in questo caso è un manoscritto del trecentesco 1325 circa come è strutturata la pagina cito da Gabriella Murano che lo descrive molto bene il nitore della pagina invocato e preteso dai committenti è dato dall'armonia tra formato e impaginazione quest'ultima è realizzata rispettando la corrispondenza tra testo e glossa ciascuna pagina è formata da un rettangolo destinato ad accogliere il testo diviso al centro dallo spazio bianco dell'intercolumnio ed un secondo rettangolo che ingloba il primo destinato alla glossa il punto debole ed è questa la cosa che a me interessa nell'architettura della pagina di un manoscritto prodotto a Bologna nella seconda metà del 200 e aggiungo anche dopo è costituito dal lato inferiore del rettangolo più grande poiché non sempre il testo della glossa risulta sufficiente a riempire l'intero margine in questi casi il copista crea una linea di testo immaginaria ricorrendo a freggi formati dagli stessi elementi che compongono la lettera Bononienzi spesso la M o la N da parole invocazione o da nomi di pura invenzione quindi spero di essere stata chiara il problema è nel questa è una pagina aperta nel recto nella colonna esterna a destra a volte la glossa finisce prima e quindi rimaneva uno spazio bianco cosa fare di quello spazio bianco per rendere la pagina più bella andava in qualche modo riempito specialmente andava conclusa la colonna e i copisti che in realtà facevano un lavoro tanto noioso e non avevano nessuna possibilità di intervenire sui testi invece in questa ultima riga spesso inseriscono semplicemente il nome del commentatore in questo caso per esempio vedete Dominus Accursius Follentinus Dominus Dominorum eccetera questo il Setermer che sicuramente voi conoscete molto meglio di me descrive il fenomeno e parla di Spillerai di una certa Spillerai nel senso che è un luogo dove i copisti spesso hanno giocato hanno inserito a volte soltanto il nome del commentatore altre volte qualcos'altro Setermer fa riferimento a Kutner che vedete qui che anche lui ci descrive appunto varie tipologie di questi riempitivi i casi in cui c'è Johannes Doctor Dominus Laur eccetera ne ho raccolti alcuni appunto i primi i più diciamo quelli che hanno meno fantasia inseriscono semplicemente il nome del commentatore quindi attribuiscono la glossa ed è questo caso oppure a volte inseriscono dei fregi ornamentali degli rigori ancora vedete il nome a cursus giustificato insomma largo come tutta la riga con all'interno dei tratti ornamentali qui abbiamo di nuovo semplicemente a cursus oppure abbiamo un ghi di oro oppure una serie di lettere come diceva Setermer che semplicemente riempiono il rigo per l'occhio qui abbiamo ancora dei casi e vado più veloce in certi casi però invece inseriscono qualcos'altro qui vedete che inseriscono il credo credo in mi un patrimonio potente oppure auxilium me un addomino eccetera ho anche trovato casi in cui inseriscono l'avemaria qui vedete ancora ghirigori qui un altro caso con il credo e qui l'avemaria avemaria glacia prena eccetera quindi parliamo appunto di questa zona quindi l'ultima riga del rettangolo esterno come luogo in cui i copisti in qualche modo secondo me si può arrivare a dire che esprimono la loro individualità quasi firmando la pagina allora è qui che voglio arrivare sfogliando il catalogo dei manoscritti miniati di origine italiana di Avril Gusset mi ha colpito nella descrizione di un manoscritto del Digestum Novum una descrizione in cui il manoscritto è questo che vedete ha delle splendide miniature è localizzata a Bologna ed è datato tra il 30 e il 35 del 300 da miniature molto noti come il metro del 1328 e l'illustratore ma a un certo punto appunto Avril Gusset segnalano che nella zona che a noi interessa quindi nella parte inferiore del rettangolo destro si trovano a volte motivi decorativi a volte accursi 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 ma si trovano anche delle formule in volgare dicono loro e fanno un elenco di litose bella altro pinzero d'uno amo eccetera la stessa la stessa cosa segnala susan langol nella sua tesi del 2000 e dice scrive delle frasi in italiano probabilmente modi di dire regionali eccetera la cosa mi ha incuriosita e sono andata a studiare il manoscritto in primo luogo ho potuto identificare per la glossa le mani di quattro copisti non è stato facile perché scrivono veramente in modo molto simile ma mi sono aiutata molto con questi segni che non so se voi vedete che sono i segni di che servono per cui noi utilizziamo una specie di parentesi quadra quando la riga di sopra finisce nella parte di destra della riga di sotto vedete che sono tutti diversi e sia questi elementi che alcuni altri elementi paleografici permettono di individuare quattro copisti di questi quattro copisti due sono i principali che ho chiamato A e D che intervengono per più di cento carte ciascuno mentre gli altri due B e C intervengono in modo molto più limitato allora il copista A inserisce a cursus Dr. Legum quando si trova in questa situazione lo vedete qua sotto il copista D si comporta allo stesso modo la mano B invece inserisce una formula che in realtà ho trovato in molti altri manoscritti comunia comunium vidimus audivimus dominum oppure un ghirigoro ma quello che a noi interessa è il copista C che in questa posizione inserisce improvvisamente e in tutte le parti in cui lui è intervenuto dei testi volgari che erano già riconosciuti appunto dal catalogo di Avril Gusset ma che io interpreto come versi quindi versi di testi lirici questo succede in otto casi mi sembra e in alcuni casi si ripetono gli stessi versi allora il primo vedete è a carta 124 recto govene donna dilittosa e bella altro pinzero dun amore dunno amo è evidente che qua andrà integrato in amor o amore è evidente che serve di colmare la riga più che di scrivere il testo e quindi si taglia la parola a metà e anche che c'è una consapevolezza della struttura metrica del testo che è data dall'interfunzione metrica che scandisce i due versi quindi dopo bella vedete che c'è una doppia barretta alta questo testo come quasi tutti gli altri tranne uno non si trova nella tradizione lirica italiana che è facilmente indagabile perché abbiamo dei corpora online per cui se fosse stato altrove l'avrei sicuramente trovato invece assomiglia molto ad alcuni altri ma non si trova dal punto di vista linguistico questo come gli altri è perfettamente compatibile col dialetto settentrionale in particolare bolognese di questi anni passiamo al secondo caso qui abbiamo lo primo assalto chi non face amore si è i miei occhi e qui e queste in questo caso lo stesso verso è ripetuto due volte cioè la stessa serie di versi è ripetuta due volte con delle piccole varianti tra i due casi ma sono veramente minime anche qui vedete la scansione del copista attraverso le barrette per individuare i versi si vada avanti tutte le donne che io vedo a perdonanza ovvero in via e poi e poi detute qui la scansione metrica è un pochino meno evidente il significato dovrebbe essere tutte le donne che io vedo incontro a perdonanza quindi alla festa del perdono o addirittura in chiesa oppure per strada e poi probabilmente va avanti col testo numero 4 che qualche carta più avanti dico quella mia intendanza e nessuna ne porto signoria quindi io ipotizzo che sia uno stesso che sfiano versi che provengono da uno stesso testo e quindi il significato sarebbe tutte le donne che io vedo in queste due occasioni quindi in chiesa o per strada a tutte dico che sono innamorato quella mia intendanza ma di nessuna sono signore quindi nessuna di quelle donne è la mia signora andiamo avanti questo caso è particolare perché vedete che è veniti ac dulci ac amanti ac a vedere ac meraveglia ac è l'abbreviazione del nome di accursio che viene utilizzato da questo cubista come separatore di parole per cui ovviamente in sede di edizione non lo inseriamo venite dulci amanti a vedere meraveglia il caso successivo lo troviamo ben quattro volte il nemico di pietà che mi ha tradito è tolto lo ben che era onemeo il nemico di pietà che mi ha tradito e mi ha tolto il ben che era solo mio e poi probabilmente manca qualcosa perché la metrica ci dice che c'è qualcosa che non va il caso più interessante che vi ho anticipato prima è quello di 248 recto perché abbiamo il testo e tu sai ben che de fede te servo amore però che ero mercede mercede in questo caso finalmente ho ritrovato il testo quindi attestato altrove ed è la ballata minore numero 24 nelle rime dei memoriali bolognesi quindi ci troviamo sempre a Bologna e abbiamo una data 1316 per il testo che è la data in cui il notario Ugo Linus ha vergato il memoriale poi sui memoriali torniamo prima torniamo un momento dopo ancora già mai non seguirò tua falsa fila e non te clamerò per me o signore e il testo numero 8 allora di fronte a questa documentazione la prima operazione che ho fatto è stata andare a vedere e devo dire che ne ho visti tanti anche perché moltissimi sono digitalizzati altri manoscritti giuridici per vedere se trovavo questo tipo di fenomeno altrove mi sono diciamo che ho utilizzato le tesi di Susan Lengol che ho citato prima e ho provato a partire dai suoi indici perché lì ci sono indici di manoscritti miniati e localizzati a Bologna e anche con proposte di datazione per cui ho provato a andare a vedere sfogliandoli online tranne che per quelli vaticani che sono potuti controllare per cercare qualcosa di simile in realtà ho trovato solo altri due esempi che vi faccio vedere velocemente un caso è il manoscritto latino 1343 che tra l'altro Maria Alessandra conosce perché è sottoscritto dallo scriba Geminianus che ha copiato anche altri codici che fanno parte di un certo gruppetto allora il copista Geminianus di solito utilizza accursus dominus dominorum eccetera che è quello che troviamo dappertutto oppure utilizza il credo l'inizio del credo come troviamo in questi due casi è un po' un fanatico del riempimento perché vedete qui a destra fa tre righe quattro righe tutte solo con accursus poi fa il ghirigoro poi fa altri quattro righe eccetera quindi diciamo che gli piaceva molto questo avere la possibilità di sfogare appunto la sua fantasia in questi spazi bianchi del manoscritto che stava copiando ma a me interessa questo caso quindi 67 recto dove in realtà lui aveva scritto credo in un deum patrem eccetera come sua abitudine e aveva fatto un ghirigoro e una seconda mano sopra e sotto il ghirigoro è inserito di nuovo dei versi il primo caso è donna mia gentile iate pietà del vostro servo e il secondo il fuoco ardente sarà erbe e flore quando mia donna sentirà d'amore più avanti nello stesso manoscritto si trova anche un'altra scritta in volgare in un contesto diverso perché una pagina è bianca secondo me la stessa mano come si vede abbastanza bene già anche da questa diapositiva e scrive semplicemente donna mia perché me fai morire in questo caso linguisticamente ci sono elementi un pochino più meridionali in particolare aiate e anche queste finali l'altro manoscritto è un manoscritto del collegio di Spagna che contiene il codex giustiniano col commento di accursio qui abbiamo di nuovo inserimenti da parte del copista all'inizio latini in questo caso in uno studio su questo manoscritto di Fernandez si ipotizza che questo guido sia il copista stesso che darebbe qui sfogo alle sue pene amorose quindi la mia donna è una donna richiesta da molti Guido spera di tenersela perché gode all'idea gode vuole e spera di essere legato a lei che lei sia legata a lui più precisamente allora questo stesso copista e qui è interessante perché questo manoscritto è più antico quindi siamo nell'ultimo quarto del 13 in questo caso troviamo invece sempre di mano del copista nell'ultima riga dopo una serie ha dilatato la glossa per cercare di arrivare più avanti possibile nella pagina e nell'ultima riga ha inserito molto medoli che non ho certanza se vum amati o no donna valente innamorato tra l'altro rileggendolo ora per voi proprio per fare per questo seminario ho pensato siccome sempre lui è lo stesso di prima potrebbero anche essere versi scritti proprio da guida lo stesso guido che di nuovo si rivolge alla sua donna valente e si duole perché non ha la sicurezza di essere o no amato proviamo a contestualizzare tutto questo discorso il contatto che abbiamo visto al numero 7 che ho citato con le rime dei memoriali bolognesi può essere un punto di vista infatti ci sono una serie importante di coincidenze il luogo Bologna il periodo ultimo quarto del 200 e inizio 300 e l'ambiente notarile perché sappiamo dagli studi della Murano e non solo che molti dei notai erano anche copisti di manoscritti giuridici ed è quindi probabile che il copista C appartenesse a sua volta a quell'ambiente allo stesso ambiente di coloro che trascrivevano i loro atti nei memoriali allora dico due parole sulle rime dei memoriali bolognesi che forse non tutti sono note qui vedete l'edizione di Sandro Orlando che in realtà è poi stata rifatta più recentemente e integrata anche con gli anni successivi diciamo che intendiamo con rime dei memoriali bolognesi quei testi poetici integrali o più spesso frammentari conservati nella serie dei memoriali del comune cioè nei 322 volumi tra il 1265 e il 1436 in cui venivano per legge trascritti i contratti eccedenti le 20 lire e tutti i testamenti rogati a Bologna in realtà all'interno della serie le poesie sono state individuate unicamente nei volumi tra il 79 1279 e il 1333 quindi all'interno di questi volumi dove normalmente sono tre scritti contratti testamenti eccetera troviamo ogni tanto dei testi volgari allora su questi testi volgari da circa un secolo e mezzo si discute sul senso che abbiano allora io voglio provare a utilizzare le proposte della critica su questi versi volgari a quelli che abbiamo trovato noi che di cui vi ho appena parlato allora le motivazioni in primo luogo gli studiosi si sono interrogati su perché gli notai aggiungessero questi testi volgari ai memoriali e le proposte sono state per svago perché si annoiavano più precisamente si annoiavano a copiare i contratti e ogni tanto gli scappava di copiare qualche verso oppure per riempire le pagine quindi per chiudere le pagine perché non fossero riempite con qualcos'altro come facciamo una croce quando chiudiamo un documento oppure più recentemente Gian Sante è intervenuto proponendo che invece siano registrazioni consapevoli cioè che chi inseriva i contratti voleva anche conservare la memoria poetica della città di Bologna copiando nei memoriali questi testi dopodiché l'altra grande discussione che c'è stata è relativa alle modalità cioè come le copiavano le copiavano a memoria o le copiavano a partire da un antigrafo a partire da un modello all'inizio si è detto che le copiavano a memoria poi da De Benedetti si è tornato a De Benedetti in poi invece si è dimostrato che in certi casi era ben dimostrabile che era molto probabile che stessero copiando da un antigrafo allora la cosa che un pochino mi ha colpito è che provando a rileggere quindi questi testi critici sui memoriali bolognesi ad applicarli al mio testo mi sembra che funzionino meglio le proposte più antiche in particolare quelle di Carducci che è stato il primo a parlare di questi testi rispetto a quelle più recenti in particolare vi cito Carducci pare che i notai di Bologna alleviassero la noia della compilazione indigesta trascrivendo di quanto in quanto su quelle gravi pergamene i versi alati della leggera ballata d'amore effettivamente quello che abbiamo visto noi sembra possiamo anche riprendere la proposta insomma quanto detto da Settermer cioè che stessero che siano giochi che stiano giocando e quindi funziona bene quanto dice Carducci stessa cosa direi per quanto riguarda la modalità la modalità di trascrizione mi sembra molto difficile pensare che i versi che vi ho fatto vedere prima siano stati aggiunti per a partire da un modello e sembra invece molto più probabile che si tratti di qualcosa che avevano nella testa quindi sembra economico che trascrivessero inizi diversi che conoscevano a memoria o ancora che secondo Maria Clotilde Camboni che qui si riferisce alle rime dei memoriali bolognesi poteva essere anche però di questo non abbiamo molte prove la memoria di un'esecuzione cantata quindi che fossero testi per musica che loro avevano nella testa e di cui scrivevano qualche l'incipit ovviamente se alcune delle ipotesi proposte per le rime dei memoriali funzionano bene per i nostri riempitivi non è vero il contrario cioè non è che quello che io ho ritrovato può entrare nella discussione relativa alle rime dei memoriali bolognesi però non basta spiegare tutto per cui rimangono valide le riflessioni che dicevo prima da De Benedetti in poi se ho ancora cinque minuti vediamo sì sì dopo cinque allora vi vorrei dire che in realtà la prima suggestione che mi è venuta è stata di collegare questo caso con quello del maestro Galvano di Bologna che è un copista molto famoso che tra l'altro ha copiato una commedia scusate qui avevo eccolo ha copiato una commedia col commento di Giacomo della Lana che è oggi divisa tra due biblioteche la particolarità di Galvano è che utilizza il formato della pagina esattamente quello dei manoscritti giuridici bolognesi e quindi ha il testo di Dante non ho una pagina intera ma fidatevi c'è il testo di Dante al centro col commento di Giacomo tutto intorno allora la cosa interessante è che in certi casi anche Galvano si trova nella stessa situazione dei nostri copisti di prima e quindi deve trovare un equilibrio tra il testo e la glossa ed è consapevole e ce lo racconta cioè ci dice perché il regato cioè ci dice che si trova in un problema di impaginazione e perché il regato non rimagna vacuo quindi perché le righe non rimangano vuote inserisce qualcosa in un caso inserisce ecco questa è la citazione vedete ma perché il regato non rimagna vacuo riempirò a mie spese qui è il copista che parla e mette Dante tre donne eccetera in un caso mette una canzone di Dante e poi vedete che scrive vacat va scusate vacat per dire al lettore attenzione questo non c'entra nulla in un altro caso si lancia ancora di più e inserisce delle terzine che non sono dantesche perché deve completare invece il testo e dice visto che qui qui non vuol testo ma per la vista tace eccetera eccetera perché dice l'autore qui si è fermato e invece la glossa continua e quindi inserisce dei versi da lui inventati per cui l'idea cioè il contesto è lo stesso anche se la situazione è un pochino diversa perché qui Galvano è molto consapevole ed è anche autore di questi testi va bene mi posso anche fermare qui puoi continuare Maria se vuoi terminare no no ma ci sono ci sono no avrei altre cose ma va bene così va bene così mi scuso perché veramente sono fuori contesto però ho voluto fare sono stata contenta dell'invito di Maria Alessandra e sono anche stata contenta di conoscere i due colleghi che erano qui oggi con me specialmente perché se per caso trovate questo tipo di di interventi nei manoscritti diciamo che io ho cercato però sicuramente purtroppo i manoscritti sono tantissimi come anche i copisti bolognesi e quindi sicuramente ce ne saranno altri infatti ora sto pubblicando questo questo articolo con questi tre manoscritti ma sono sicura che ne verranno fuori e vi invito tutti a guardare quella zona del manoscritto quando aprite i manoscritti giuridici grazie bene Maria grazie tantissimo perché è veramente un intervento interessante io già ero rimasta appassionata quando mi hai mostrato le tue scoperte perché è veramente interessantissima questa pratica di riempire le parti lasciate bianche con questi testi qualsiasi siano è veramente interessante insomma e dimostra proprio chiaramente quanto i manoscritti giuridici vadano studiati diciamo in team interdisciplinari per capirli meglio perché per esempio io non avrei non avrei gettato l'occhio su questo tipo di annotazioni insomma grazie no io ho la sensazione che non vengano molto letti giustamente perché quello sì è anche vero diciamo gli storici dell'arte spesso non leggono purtroppo i manoscritti dei quali studiano le miniature non tutti insomma non con attenzione qualcuno sì per fortuna ma non tutti e quindi poi qualcosa sfugge naturalmente insomma non so allora se il nostro uditorio ha delle domande delle curiosità su questa relazione così interessante qualche osservazione generale una domanda probabilmente stupida questa cosa è una cosa tipicamente bolognese e solo bolognese non lo so io l'ho trovata solo in manoscritti bolognesi però la cosa che poi mi ha stupito è che l'ho trovata in quel manoscritto del collegio di Spagna che è più antico e quello per noi è molto importante perché se insomma se andiamo indietro andiamo vuol dire che anche i testi sono già li possiamo datare alla fine del duecento ed è diverso dal punto di vista anche della diffusione della lirica siamo in un periodo precedente sì tra l'altro non mi sono dimenticata di dire che in realtà lo stesso fenomeno anche se è diverso lo troviamo come traccia nelle carte di guardia di alcuni manoscritti giuridici ce ne due in biblioteca vaticana dove alla fine sono stati aggiunti sia testi italiani che anche provinciali e francesi per cui è un po' lo stesso fenomeno nel senso che evidentemente c'era una diffusione di questi testi è interessante anche vedere come questi copisti fossero diciamo molto aggiornati cioè leggessero poesia con grande interesse e poi la ritrasferiscono anche sui codici che copiano infatti questo appunto per i memoriali bolognesi c'è un'ipotesi ma mi sembra interessante di Maria Clotilde Comboni che pensa che fossero per musica e quindi che fossero perché tra l'altro ci sono delle testimonianze di balli danze con questo tipo di testi per cui è possibile abbiamo credo una domanda da Ludovico Geimonat Ludovico buonasera buongiorno buonasera non vi faccio vedere ma la domanda è brevissima proprio su questo cioè l'elemento orale in questi testi e anche la possibilità che non corrispondano a testi noti perché siano variazioni cantate a quanta credibilità ha perché è un'ipotesi che mi piace moltissimo ma non capisco quanto si possa portare avanti dipende cosa intendi per oralità nel senso che io penso di sì cioè che sia che siano copiati sicuramente non sono stati prodotti cioè almeno noi di solito pensiamo che non siano stati prodotti oralmente però diffusi e riprodotti quello sì grazie non so se sono stata chiara però in fondo anche oggi ci può capitare che ci stiamo stufando abbiamo in testa una canzone e ne scriviamo un verso esattamente quello cioè sono evidentemente erano canzoni alla moda questo è quello che si dice però la musica non è documentata ma è molto probabile però che fosse qualcosa che si trasmetteva comunque realmente forse l'indizio più evidente è proprio quella punteggiatura metrica cioè comunque chi trascriveva una struttura in testa ce l'aveva perché io vabbè ho visto già l'articolo quindi so che anche negli altri casi ci sono vari c'è c'è intenzione metrica quindi quello dalla dalla misura che perlomeno chi scriveva aveva in testa una struttura metrica e anche un libro probabilmente perché se no non li scandirebbero cioè c'è un sistema preciso a me ha fatto molto pensare il momento in cui ha detto che la formazione dei notagli e di quelli che poi sarebbero diventati notagli avveniva anche copiando e mi ha interessato perché è un po' come se quella del copista fosse l'anello di collegamento tra il poeta e il notaglio mi ricordo solo di questo esempio del poeta Giacomo o Jacopo Dalentini noto come il notaro e adesso ripensando ai versi dei suoi sonetti potevano essere benissimo versi concepiti nella copiatura e ricopiatura di testi giuridici in particolare mi ricordo lo vostro amor che è caro donatelo al notaro che è nato da Lentino tutti divertissimo per far vagare una mente creativa nell'atto di riprodurre atti formali ripetitivi che ha completamente senso che poi vengano arrivino anche delle composizioni poetiche nel momento in cui si accumulano tante di queste creazioni però non so di quante di queste sono creazioni originali come l'ultime terzine che ha mostrato e quante invece fosse ricopiatura di testi già esistenti però mi è interessato questo triangolo tra il copista il notaio e il poeta sarebbe è un'ipotesi rivoluzionaria quella che propone specialmente per la lirica siciliana però io non ci avevo manco pensato però è effettivamente interessante che i notai copiassero questo è sicurissimo è attestato e lo sappiamo dagli studi l'altra cosa che io ho trovato impressionante è che Gabriella Murano ha ricostruito che c'erano ben 200 copisti attivi a Bologna nell'inizio del 300 per cui è un numero per me enorme perché io all'inizio ovviamente ho pensato adesso il copista C lo ritrovo in altri manoscritti sono andata come una pazza a guardare e poi ho capito intanto scrivono tutti uguali a parte quei segnetti che vi ho fatto vedere e poi non so però in effetti è interessante quel che ha detto cioè almeno in qualche caso potrebbe anche starci bene ci sono altre domande altre osservazioni bene allora non mi resta che ringraziare nuovamente i nostri oratori che veramente ci hanno fatto passare un pomeriggio interessantissimo e molto istruttivo e dare l'appuntamento alla prossima e ultima sessione del nostro ciclo di webinar che sarà il 30 giugno e ringraziare tutti coloro che sono qui presenti questa sera con noi e augurarvi un buon fine settimana pertanto a presto e grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti